Consegniamo alla città un ennesimo finanziamento, così l'ex sindaco Fabrizio Di Paola e i consiglieri comunali di centrodestra in riferimento al finanziamento di 6 milioni di euro per la realizzazione del tratto terminale della banchina di Riva Nord, dei piazzali retorstanti e delle opere di Alagio. Il decreto di finanziamento è stato firmato nei giorni scorsi dai dirigenti del Dipartimento regionale delle infrastrutture. Dopo la registrazione della Corte dei Conti e la pubblicazione in gazzetta ufficiale, si potrà procedere alla gara d'appalto per l'affidamento delle opere che andranno a riqualificare ulteriormente il porto di Sciacca. Si va a concludere un iter che risale al 2013 e che ha impegnato l'aggiunta allora guidata da Fabrizio Di Paola nel tentativo, andato a buon fine, di recuperare un vecchio progetto. L'intervento che si andrà a realizzare con il finanziamento di 6 milioni e 100 mila euro faceva infatti parte di un vecchio accordo di programma Stato-Regione che prevedeva tre diversi progetti per il porto di Sciacca, dei quali solo uno fu poi realizzato, quello della rifioritura della parte esterna del molo di Levante. Gli altri due, cioè l'escavazione del porto e quello che adesso ha ottenuto il finanziamento, non furono realizzati attraverso quel vecchio accordo di programma. Per tali ragioni, sin dal 2013, l'amministrazione Di Paola ha lavorato per il recupero dell'intervento e del relativo stanziamento attraverso incontri e interlocuzioni con i vari dirigenti dell'assessorato regionale ai trasporti. La svolta è arrivata nel 2014, quando si è riusciti ad inserirlo nella nuova programmazione comunitaria con carattere di priorità. E infatti nel 2016 il progetto è stato definitivamente approvato con delibera di giunta del Governo regionale e ha trovato copertura finanziaria a partire dal 2017, con un importo di 5 milioni e 700 mila euro, oggi portato a 6 milioni e 100 mila euro per l'aggiornamento del preziario regionale. Fondamentali per il raggiungimento dell'obiettivo, evidenziano oggi l'ex sindaco Di Paola e i consiglieri di centrodestra, sono stati gli incontri che dal 2013 al 2017 si sono svolti tra i tecnici del Comune di Sciacca, dell'assessorato regionale e i progettisti Coppola e Tallo, ma soprattutto la volontà politica della precedente amministrazione e dell'allora Presidente del Consiglio Comunale Calogero Bono, di recuperare questo importante finanziamento che era andato perduto. Si tratta di uno straordinario intervento che sistemerà e riqualificherà in via definitiva, anche con opere di arredo urbano, la banchina di Riva Nord, per intenderci l'intero tratto antistante alla Chiesa di San Pietro e Gaia di Garaffe, e che avrà un rilievo importante e strategico non solo per le attività portuali e di pesca, ma anche per altri comparti, tra cui quello commerciale e turistico, nonché per un miglioramento complessivo della qualità della vita nel sito che verrà riqualificato. E la nostra risposta hanno sostanzialmente evidenziato l'ex sindaco e gli attuali consiglieri di centrodestra all'odioso slogan, mai più cinque anni così.